Prendete posto, anche quest'anno ci sarà da divertirsi sulla giostra delle emozioni del Sky Sport Calcio italiano e internazionale Arriva De Bruyne, prima di Douglas Lewis De Bruyne la mette sul secondo palo dove arriva Kumbaga Foglio da 1 del motore Mantiene dentro per un millimetro dalla riga bianca Let's go! Tanny Berettini vince per la seconda volta in Queens Basket Crosi e Antonac MotoCP Bagnaia c'è Bagnaia c'è Dopee Dopee e molto altro La Roma vince la Conference League Lo sport è un'emozione continua E così non puoi vivere solo su Sky Sport Sky Sport La tua casa dello sport E così non puoi vivere solo su Sky Sport E così non puoi vivere solo su Sky Sport